44esima targa Florio scattano le vetture della categoria sport. Il 184 è la Porsche di Bonnier Hill. Il 200 è la Maserati di Maglioli Vaccarella. La lotta è chiusa tra questi due bolidi. In testa la macchina tedesca incalzata da quella italiana. Al quinto giro Maglioli supera Bonnier e passa la guida al giovane palermicano. Vaccarella sbalordisce tutti aumentando il vantaggio. Sembra ormai vincitore. La rottura del serbatoio della benzina toglie invece improvvisamente di gara la Maserati. Lo svedese Bonnier rimane solo in testa e non viene più disturbato fino alla fine vittoriosa. La Ferrari di Pontrips Hill si piazza al secondo posto, distaccata. Le macchine tedesche sono così al comando del campionato mondiale Marche.